La Calabria che vogliamo è questa qui, alberi personalizzati col proprio nome che in modo si possa regalare fra famiglie, il papà lo vuole regalare al figlio, il figlio lo regalare al padre o la sorella al fratello, alberi personalizzati da piantare, da crescere insieme col proprio nome, si mette la propria targhetta, insomma che si sta benissimo panchine personalizzate col proprio nome in modo che ognuno si possa sedere dove vuole verde e ben curato, un ambiente sano, stare insieme nella comunità, insomma vivere bene questo è il mondo che vogliamo, la Calabria che vogliamo e la creeremo così sostenete Fortunello, votate Fortunello per un mondo più bello grazie a tutti e seguitemi, votatemi e amatemi, grazie grazie a tutti grazie a tutti